Bentornati e bentrovati, sono 94 in un nuovo video e sono un idiota, perchè sono un idiota Ho parlato nel video scorso che ho postato, tra l'altro da notare che hanno cambiato le icone di Apollo E avevano detto che no, non li cambiamo più le icone perchè è troppo abbega, quindi Ho detto, ho parlato rapidamente oltre a dei progetti del prossimo god E non avevo idea di chi sia, avevo detto pari, avevo detto altri E' un ragazzo nei commenti, che saluto, che si chiama Edo Fanti Non mi dispiace se ti dico il nick, se poi il massimo Ogni volta che mi scrive sui commenti, mi fa notare, cioè non è che mi fa notare, mi illumina sulla mia totale ignoranza sulla mitologia Perchè lui mi ha detto, parlando delle, tu hai parlato delle, della freccia dorata e mi potrebbe essere un singolo personaggio Che non ho pensato Odisseo Sono stupido Infatti mi sono preso a schiaffi Dopo quel che ho letto il commento Non ci ho pensato Sono stato stupido, forte A non pensare a Odisseo Perchè dopo tutto ho detto la guerra di Troia Odisseo ha partecipato alla guerra di Troia La freccia che non segue il destino Potrebbe rivalizzare con lui Rapidamente che io non conosco Odisseo È uno dei personaggi più famosi dell'opera Cioè l'opera, il protagonista dell'opera Odissea Non l'ho mai letta Ammettilo, ammetto, non l'ho mai letta Perchè non è mai stata parte del curriculum scolastico All'interno di quella scuola che ho fatto io Quindi Ciccia Non ci ho fatto fare niente Ulisse detto Ulisse col vero nome Odisseo Praticamente È questo avventuriero che è partito Per partecipare a questa guerra La guerra di Troia Dove c'è stato il suo presunto cavallo In realtà ci sono alcune fonti che dicono Che il cavallo gliel'hanno dato Alcune che l'ha preso Semplicemente rubando alcune cose Da un tempio di Atena E poi l'ha dato in nome L'ha creato in nome della dea E cose così Quindi Insomma Lui è famoso per questa cosa La cosa interessante di Odisseo Che se lo facessero bene È che Odisseo Non è Niente praticamente Un po' come è uscito L'Ancelot in questo momento Come dico io Che non mi sembra un capo Non mi sembra niente Quell'Ancelot Ovvero Non c'è niente Praticamente Non è un god Non è un semi god Cioè non è un dio Non è un semi dio Anche Odisseo lo è E adesso che ci sto pensando Molte divinità Adesso che sono uscite Sono tutte divinità Che originalmente Almeno a parte Shiva E Ryu Wang Tecnicamente non lo era Una divinità Poi l'è diventato Più avanti Sono tutte divinità O barra Personaggi Che sono molto legati A L'ecosistema La La sfera di influenza Umana Odisseo Non era conosciuto Perché era un dio Che c'era Superpoteri E cose mazzi No era conosciuto Perché era Tremendamente Intelligente Anzi Forse la persona più intelligente Che si chiama cresciuta E il nome Odisseo Questo l'ho letto da poco Deriva dall'odiato Perché il nonno Il padre Gli ero diete Perché Lui sapeva Che si sarebbe fatto odiare Per il fatto di essere Il più intelligente Di tutti gli altri Lui neanche doveva partecipare Voleva partecipare Alla guerra di troia Ha provato a finire Ci si pazzo Però i suoi Compagni L'hanno fregato L'hanno beccato Quindi L'ha dovuto combattere Comunque E Anche perché Una Indovina Gli aveva detto Che se partecipava Alla guerra Sarebbe tornato a casa Dopo vent'anni Ed è quello che è successo Considerando che io Abito nel Nella zona Dove c'è il Circeo Quindi So Abbastanza bene Quella parte Della storia Quindi si E Famosa Era La sua parte Finale Della storia Ovvero Quando fece La prova Dei Proci Ovvero Quella dove Per dimostrare Di essere degno Di sposare Sua moglie Che tecnicamente Era un incognito Lui in quel momento Penelope Tutti i suoi Pretendenti Dovevano Far sì Di lanciare Una freccia Attraverso 12 anelli La maggior parte Di essi Non potevano Neanche Scoccare La freccia Incoccare La freccia O tendere L'arco Mentre Lui Ce la fece Appena Vedete Ed era Travestito Si fece La sua vendetta Eccetera Eccetera Interessante Questa cosa Perché Se vediamo bene Il trailer Tra l'altro Quanti cazzo Di danni C'ha sto pollo Se vediamo bene Il trailer E ci pensiamo Un attimo Ha senso Quella freccia dorata Che vediamo Si conficca All'interno Di diversi Anelli dorati Sembra Quindi Per dire È forse Rivelativa A questo Ha partecipato Ha partecipato A Alla guerra Di troia Quindi si Le frecce Della battaglia Era un famoso Arcere Non come Quello Non come L'odisseo Di Pinks Immortal Rising Quello no Quello no Tra Atalanta Che c'ha l'arco E l'odisseo Che c'ha la spada Proprio non Quella parte Non l'hanno proprio Azzeccata bene Secondo me Però vabbè Quindi È Molto probabile Che lo sia Anzi Forse Pure troppo Probabile Spero di sì Se sarà così Sarà interessante Mi piace tantissimo Come cosa Perché È Forse Il personaggio Della mitologia Più Umano Che esista Di solito C'è sempre Qualche cosa C'ha il favore Di un dio Oppure C'ha Il Il favore Di un dio C'ha un'arma speciale C'ha il sangue Di coso In corpo C'ha il sangue Di Zeus No lui Lui Semplicemente C'aveva le cose Gli oggetti E lui L'usava Perché era uno Stratega Della madonna Cosa mi piacerebbe Vedere Su un Odisseo Possibile Il cavallo Di troia È una parte Importantissima Della sua storia Per quanto Mi puoi dire Che deve Per forza Fa sta cosa Dei dodici anelli Secondo me Il cavallo di troia È importantissimo Ed è Forse la cosa Più famosa Che abbia mai fatto Tutta la mitologia La possibilità Di implementare La passiva Dell'odisseus Il problema Della passiva Dell'odisseus Di inserire Una passiva Dell'odisseus All'interno Di odisseo È Che se Se lo build All'odisseo L'arco Si Moltiplica Per 4 Gli attacchi Quindi no Sarebbe senso Però sarebbe interessante Magari Una Passiva Che prende Un tot Di Danni Dalla sua Scala Un po' di danni Dalla sua Velocità D'attacco O qualcosa del genere Era famoso Per essere Un'estratega Eccezionale Un manufatturiero Eccetera Quindi magari Qualcosa Che tipo In battaglia Potenzia Uno strumento In base a Uno strumento gratis In base alla Cosa Una cosa del genere Oppure Tipo Se per far Sta cosa del cavallo Fai si che Ha una passiva Che ci vuole Un tot Per usare La ulti Barra Cavallo di Troia Ci vuole un tot Presumo che Non faranno mai Una cosa del genere Che appare Un cavallo Un cavallo Di legno Gigantesco Però No dai E no Non voglio Non sto pensando Sto pensando Troppo all'Odisseus Di Se non l'avete mai visto Di Fate Grand Order Perché L'Odisseus Grave C'era il cavallo Di ferro Però è un Gundam Non sto scherzando È un Gundam Ed è bellissimo E niente Se veramente fosse così Sarebbe interessante Perché Alla fine della fiera Pensi che L'anno scorso Hanno messo Charidi Quindi quest'anno Hanno messo Disseu Quindi Chiudi un circolo Alla fine Ed entrambi Sì In effetti Le ha entrambi Uccisi Lei Se non sbaglio Quindi sì Sarebbe un po' Imbarazzante Se si incontrassero Nel campo di battaglia Tipo Ma non ti avevo già ucciso Quindi sì E niente Ringrazio tantissimo Quei ragazzi Che ogni volta Mi Anzi ringrazio Tutti i commenti In realtà Non solo Quei ragazzi Che ogni volta Mi aprono la capoccia E mi dimostrano Che sono Che faccio tanto Che sono la mitologia Ma poi non Sono un pirla E niente Fatemi se la loro cosa Se per voi Sarebbe un'ottima idea Mettere Odisseus Oppure no E niente Ci vediamo Possibile ragazzi Vi ricordo Il capito di video Per sostenere Vi ricordo Un gap Ad la mano Si può cambiare il mondo Bye bye Ciao Ciao